bellissimi ragazzi bentornati in questo nuovo video di un attimo che mostro un attimo che vi mostro la m fatemi posizionare benvenuti in questo nuovo video di mostra la m perfetta come sempre siamo tornati qui in questo nuovo video non su clash royale né su altri videogame ma su clash of clans questo era il mio vecchio villaggio e sono riuscito a recuperarlo un attimo soltanto che rimetto di nuovo il gioco condizione lenta allora oggi siamo tornati su clash of clans per farvi vedere un nuovo video portare anche altri gameplay che non siano sempre clash of clans o clash royale che non siano sempre clash royale vivono le 17 dai raga mi sono stufato basta cambiamo e ho deciso di portarvi clash of clans vi ricordo che se raggiungiamo un like ci sarà un un episodio su minecraft poker editor o e come no come si chiama praticamente raggiungiamo un like e porterò un nuovo video di minecraft se vi piace minecraft ragazzi vi se mi piace con la show che mi piace il video di che sto facendo se mi piace anche minecraft che porterà mi raccomando supportate tutte queste serie è un peccato che non posso fare sapete no però raga ma supportate queste serie allora il mio mazzo no dai però e che pizza no basta questa è pubblicità raga ormai il mio telefono è invaso da ste pubblicità che non so neanche da dove siamo finite allora siamo tornati in place of clans che storia maledetta di ste pubblicità mamma mia oh basta allora se portavo minecraft vi chiederò sempre un like però voi dovete supportare la serie se non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi e condividete i video che che vi porto allora come stavo dicendo questo è il mio villaggio mi sono riuscito a recuperarlo che cosa ho solamente due costruttori praticamente uno l'ho messo a fare a fare la difesa aerea la bomba aerea non mi raga per favore non contra non contradditemi allora evento bonus bella la cotoletta mi piace allora poco elisire ora a me questo l'importante è avere troppo ore tantissimo troppo ore e troppo elisire no pochissimi io ho 300.000 200.000 e passa ma soprattutto mi serve il nero raga perché cercherò di farmi i domatori anche ai valchiri che utilizzo che sono fortissimi cercherò di fare tantissime cose se riesco a trovarlo oh dammi un inattivo quelli che non giocano da tantissimo tempo sarebbero meno no allora ah bello l'oro ma pochissimi li si rimpiangerò di aver fatto questo no no raga dobbiamo trovare abbastanza oro come abbastanza elisire perché se non trovo questo diciamo che andrebbe anche molto meglio solo che lui all'arco x controlliamo benissimo no a queste due ci pensavo benissimo un golem potrei mettere il golem qua no i pecca qua vediamo quanto toglie ah non toglie niente ok mettiamo il golem qua gli stregoni qua non è che ce l'ho di livello 5 poi mettiamo altri stregoni qua qua mettiamo le valchiri e qua insieme a supportare gli arcieri benissimo però ho detto di andare su quella vabbè non fa niente abbiamo questo qua mettiamo una terremoto io sono cioè non giocando da tantissimo tempo sono un abbo diciamo così su clash of clans da capo quindi però io mi sono stancato attiviamo la furia del bar del re barbaro non so come si chiama king barbarians io metto in inglese perché sono bravissimo in inglese a me diciamo così fammi fuori quel cannone c'è tutte le altre truppe sono morte anche i pecca no i pecca sono ancora vivi e so prendendo tanto l'isir come tanto oro ma l'oro nero non l'ho preso che schifo è sta cosa vogliamo l'oro nero vogliamo l'isir nero che ho solamente 2205 guardate il barbaro della vita che sta andando lì tutto coraggioso i pecca come gli stupidi vanno ad attaccare sempre all'esterno non vanno ad attaccare mai all'interno come sempre perché dai barbaro dai re barbaro poi dopo andiamo a vedere come si chiama no mi stanno facendo fuori l'unico pecca rimasto intanto in golemina uno soltanto rimasto vai il re barbaro coraggioso come tutti gli altri re barbari che ne sia solamente uno su clash of clans perché gli altri sono tutti in albi va vai vai almeno non posso di farlo più ok termina una battaglia abbiamo preso un poco di oro anche un poco di visir troppo poco io l'avevo detto troppo poco però per un th 9 per un th 9 sapete no e col villaggio non avendo come posso dire non è poi così tanto forte il villaggio chiedeva lui adesso attacchiamo io faccio così lo diciamo allora terminiamo l'attestamento poi questo intanto andiamo a fare un velocissimo attacco e non lo so questo è buono c'ha pure tutte le ah bellissimo allora questo qua è l'offo cioè basta che prendi un poco di cose fuori si 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 può fare mandiamo questi qua questi qua sempre con il supporto di arcieri dietro poi mandiamo questi qua ma gli arcieri qua ma dove ho mandato gli arcieri senza voler si prenditela con loro non prendertela con questi arcieri che mi stanno dando una mano a rompere a sfraccasciarti il culo il cuore il cuore dai non mi fratelli dietro poi mettiamo gli ultimi barbari qua alcuni barbari qua poi mettiamo delle cose qua sempre dei barbari qua poi scusate se non si non si vede ma è crashato un attimo una cosa e poi possiamo andare benissimo di qua prenderà anche altre poco che siamo arrivati a 41 e questo non è poi buono non abbiamo compreso tutto l'oro tutto chissà tutto tantissimo oro che mamma mia eh però diciamo così no perché andate là ok questo è distrutto però io volevo prendere quest'altro oro se me li metteva fuori sto figlio di una buona mamma potevo benissimo non ho preso abbastanza elisir no raga devo prendere l'elisir necessario non me ne frega andate sul non l'elisir l'elisir l'abbiamo finito non mi serve neanche l'elisir nero l'importante è prendere quell'oro che sta dentro con la miniera dai prendetemi l'oro che sta dentro con la miniera almeno un poco almeno un poco niente ok io direi bell'attacco abbiamo preso abbastanza oro abbastanza corso tanto poi abbiamo vinto anche il bonus stella che lo andiamo subito a prendere quando e voilà la magia siamo arrivati a un milione di riservi un milione di oro un milione circa il passaggio di riservi un milione di oro raga che vi potrei dire il video di oggi posso finire qua mi raccomando raggiungiamo un like ci sarà un prossimo episodio di Clash of Clans e ci sarà anche un episodio di Minecraft farò anche tanti episodi sia di Clash of Clans che di Minecraft mi raccomando lasciate il like condividetelo questi video come gli altri video e mi raccomando supportate la serie mi raccomando se non siete iscritti iscrivetevi io che cosa vi potrei dire bella cioè che cosa vi potrei dire bella raga